Chi mi conosce da tempo sa che io sono ottimista di natura, anche se non nego di avere dei momenti di leggera malinconia guardandomi intorno, soprattutto nell'andamento del mondo editoriale in generale e poi non parliamo del mondo politico. Sono ottimista comunque di natura e sono una testa dura. Credo molto nella frase se vuoi realizzare una cosa credici sino in fondo perché alla fine la realizzerai e infatti io ci sto credendo sino in fondo e alla fine la realizzerò. Oddio, qualche cosa che prevedevo che accadesse l'ho vista realizzata, l'ho realizzata prima di altri però ho bisogno di realizzare molte altre cose, ho dei progetti in testa, lo sapete ve l'ho detto tante volte, ve lo ripeto periodicamente e soprattutto sono alla ricerca di persone le quali imprenditorialmente la pensino con l'ottimismo e con la grinta che ho io. Mi sto guardando intorno, non so se ce ne sono davvero o se sono tutti degli impiegati mascherati da imprenditori. Comunque io vado avanti, insisto e sto preparando numerose novità di cui vedrete la nascita all'inizio di ottobre. Grazie. 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 Grazie.